Musica Benvenuti all'altigi 10, c'è la pagina della cronaca giudiziaria in apertura del telegiornale. Vi riferiamo alla sentenza di condanna emessa ieri nei confronti di un operaio metalmeccanico gelese che nel settembre di due anni addietro uccise il proprio fratello nel quartiere Sant'Ippolito. Nessun attenuante per l'operario metalmeccanico gelese Vincenzo Valenti è il giudice dell'udienza preliminare e lo ha condannato a 16 anni e 4 mesi di carcere. È la decisione pronunciata dal GUP Veronica Vaccaro. L'uomo viene arrestato da Carabinieri il 1 settembre del 2013 in via Nicolò Minardi con l'accusa di aver ucciso in strada a pochi metri dall'abitazione di famiglia del quartiere Sant'Ippolito il fratello trentenne Alessandro. In questo modo è stata accolta la richiesta formulata dal pubblico ministero Serafina Cannatà. L'operaio al culmine dell'ennesima litia familiare colpì alla gola con un coltello il giovane fratello che cadde rovinasemente a terra. I legali di difesa, gli avvocati Carmelo Tuccio ed Emanuele Magarunco hanno sottolineato come l'imputato giudicato con il larito abbreviato che gli ha garantito uno sconto di pena si fosse soltanto difeso dall'aggressione del congiunto. Secondo difensori, quindi, non si sarebbe trattato di un'aggressione programmata nei minimi particolari, ma solo di una violenza e reazione davanti alla provocazione della vittima. Una linea del tutto differente da quella descritta dagli avvocati di parte civile i legali Vittorio Giardino e Fabio Fargetta fermi nella ritenere che Vincenzo Valenti abbia agito per vendicare presunte offese senza essere stato provocato. La moglie della vittima e la piccola figlia si sono costituite parti civili proprio con gli avvocati Giardino e Fargetta. Il giudice per le udienze preliminari ha riconosciuto ad entrambe un risarcimento da 300.000 euro ciascuno. I dubbi espressi dalla difesa si sono concentrati soprattutto intorno al cacciavite ritrovato dagli inquirenti a pochi centimetri dal cadavere di Alessandro Valenti. Secondo gli avvocati, Carmelo Tuccio ed Emanuele Magarunco si sarebbe trattato della possibile arma utilizzata da Alessandro Valenti durante il violento confronto con il fratello Vincenzo. Un elemento in più quindi per caldeggiare l'ipotesi della legittima difesa. Il giudice Veronica Vaccaro però, come dicevamo, ha escluso qualsiasi attenuante condannando l'operamento al meccanico alla pena di 16 anni e 4 mesi di reclusione. L'uomo si trova attualmente detenuto nel carcere di Contrada Balate a Gela e si è detto più volte pentito del gesto compiuto. Un ventenne di Gela è stato arrestato dai carabinieri perché guidava una moto in violazione della misura di prevenzione imposta dai magistrati. Si tratta di Saverio Di Stefano, che vedete nella foto. I militari dell'arma hanno riconosciuto il ragazzo che circolava in sella ad un motociclo e non hanno esitato a bloccarlo nella zona di Settefarine. Per la stessa violazione era già stato arrestato qualche mese addietro dai carabinieri di Scoglitti. Il ragazzo è agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo che si tiene oggi. L'insabbiamento del porto rifugio di Gela ha fatto un'altra vittima. Il rimorchiatore Gela 2 del gruppo Parcaioli è rimasto bloccato, e lo vediamo dalle immagini, all'imboccatura del porto. Il mezzo è stato poi soccorso dal personale di terra della Capitaneria di Porto. E' stato messo a rischio sia il natante che gli operatori portuali ha denunciato Massimo Livoti, responsabile del comitato Porto del Golfo. Non si può continuare ad andare avanti in queste condizioni. Il mezzo era uscito per il normale servizio di controllo delle piattaforme Eni. Da tempo il porto rifugio, lo ricordiamo, è in condizioni precarie. I pochi natanti, ormeggiati, sono più a contatto con la sabbia che con le banchine. E ora occupiamoci dei lavori di riqualificazione al lungomare Federico II di Svevia. Fabiola Polara ne ha parlato con l'assessore ai lavori pubblici Carmelo Casano. Assessore, sono partiti i lavori del cantiere del lungomare di Gela. Quanto dureranno i lavori e quale sarà il risultato definitivo? Il risultato definitivo è dare un bel servizio alla città che lo aspetta da tanti anni questo progetto. Finalmente siamo partiti. Un ringraziamento va a tutta la Giunta, al Sindaco che fortemente l'ha voluto, ma anche ai consiglieri comunali che hanno votato questo piano triennale qualche anno fa. Quindi partiamo alla grande, è un progetto che la città voleva. Ci abbiamo lavorato tanto perché i pareri che ci volevano sono stati molteplici. E oggi iniziamo finalmente. La città avrà questo lungomare, una grande passeggiata che parterà per indenderci dalla Trotonda a Borsellino fino al Porto di L'Irbarcatoio. Questo ci permetterà di evitare isole pedonali e altre. Porteremo i cittadini a passeggiare lungo il mare, a godersi il mare. Il mare è tutto per noi. Assessore, quanto costeranno i lavori e la domanda è, sono soldi, fondi europei? Non sono fondi europei, è un fondo comunale. Costo 2 milioni e 800 mila euro. Saranno lavori che daranno risultato alla città, che porteranno sicuramente, noi sono certo, che siamo stati certi tutti in ambito politico, grande turismo nella città di Gela, porteranno sviluppo e anche i commercianti sono contenti di questi lavori. e speriamo che nel prossimo futuro possiamo programmare un prolungamento di questo lungomare perché è il momento più bello, il punto più bello della città di Gela. Quando saranno poi definitivamente restituiti alla città? I lavori comprendono la parte sud che è verso il mare e abbiamo intenzione e programmato di consegnarlo entro maggio in modo che i nostri cittadini possano andare a mare tranquillamente. La parte nord che è dentro il marciapiede di fronte, che non influisce molto sul mare, anche qualche mese in più, ma prima dell'estate dobbiamo finire e questo è il bel risultato che otteniamo tutti insieme e tutti insieme anche i cittadini ci debbano aiutare nel corso del lavoro e ci stanno aiutando tanto e ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando in questo momento. Si è svolto al Palazzo di Città Gela un incontro tra l'amministrazione comunale e i responsabili del lato idrico di Caltacqua. Durante l'incontro, convocato dal sindaco Angelo Fasulo che aveva lo scopo di fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di Via Crispi, si è avuto modo di discutere anche della predisposizione di un bando di premialità per gli utenti meno abbienti riguardo ai lavori di rifacimento dell'impianto idrico in Via Crispi emerso dalla riunione che l'intervento sta andando avanti regolarmente con lo svolgimento delle prove idrauliche nel tratto di condotta tra la Via Verga e la Via Crispi e che al termine si provvederà al ripristino del manto stradale. Il secondo punto dell'ordine del giorno è stata poi la proposta di creazione di un bando di premialità per gli utenti disagiati. In questo caso il primo cittadino ha riferito che esistono delle somme che il Comune può mettere a disposizione delle fasce più deboli per il pagamento delle bollette. A questo proposito il Comune ha già dato incarico al settore servizi sociali di predisporre un regolamento che definisca i criteri ed il relativo avviso pubblico. Sono aperte le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria Luigi Capuana di Gela diretta da Concetta Maria Mongelli. I bambini possono essere iscritti in treplessi Benedetto Croce, in Via Borca di Cadore, ex magistrale in Via Europa e Capuana in Via Palazzi. Per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia bisogna recarsi negli uffici di segreteria in Via Palazzi al Civico 148. Per la scuola primaria le iscrizioni si effettuano online sul portale iscrizioni.istruzione.it scegliendo il plesso prescelto. È possibile inoltre iscrizione a classi ad indirizzo musicale e strumentale della durata di cinque anni della scuola primaria. I bambini saranno avviati alla conoscenza della musica e alle capacità strumentali da docenti esperti in orario curriculare fino ad acquisire alla fine del percorso le capacità di suonare in ensemble e partecipare a concorsi e rassegne. Il corso sarà tenuto e coordinato dal maestro Giuseppe Vacca. Informazioni dettagliate sulla scuola, sull'offerta formativa, sui docenti e sui corsi sono consultabili sul sito capuanagela.it contattando il personale di segreteria. Lunghi attese file interminabili di pazienti e familiari stipati come in un lazzaletto minacce ed aggressioni al personale, nervosismo e sfiducia e questa è la realtà dei pronto soccorso degli ospedali in provincia di Caltanissetta in particolar modo del Vittorio Emanuele Di Gela e della Sant'Elia. Uno stato dell'arte che i sindacati confederali Cigel e Cisle Will denunciano alle istituzioni competenti affinché vengano presi seri provvedimenti. I segretari confederali Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Vincenzo Mudaro analizzano le cause dell'aumento di aggressioni e minacce al personale del pronto soccorso dell'ospedale Di Gela così come delle criticità ormai perenni al Sant'Elia. Il primo problema è la carenza del personale infermeristico e medico sono in pochi conturni logoranti e con una pressione che li sottopone a possibili errori e quindi ad essere facilmente denunciati. Di contro i cittadini non si fidano più del sistema sanitario ospedaliero nello suo complesso. Oltre alle proteste, ultimamente si sono registrati anche casi di vere e proprie aggressioni. Ecco perché in agenda, secondo Giudice Gallo e Mudaro, l'ASP2 e le istituzioni preposte dovrebbero mettere in cima due esigenze adeguare gli organici medici e paramedici e definire un posto di polizia fisso presso il pronto soccorso oramai da tempo soppresso. La polizia presso il posto fisso in ospedale, affermano i segretari, svolge un'attività delicata e complessa a tutela di pazienti e personale medico-infermeristico. L'arrivo in pronto soccorso di chi ha subito un incidente o è stato vittima di un reato rappresenta il momento più importante per raccogliere le prove per un'azione giudiziaria che altrimenti si basa su dichiarazioni verbali. Molte denunce, infatti, oggi non vengono più presentate. Da tre anni si lavora la nuova sede del pronto soccorso di Gela, oggi ospitato in locali angusti e inadeguati. È arrivato dunque il momento di pretendere la consegna dell'opera. Alla Sant'Elie di Caltanissetta, invece, l'attivazione del lobby, osservazione breve e intensiva, non ha assurtito l'effetto di decongestionare il pronto soccorso. Altro problema fondamentale che finisce per intasare il pronto soccorso è l'assenza di un protocollo informatico per la comunicazione tra i reparti e gli ambulatori con il pronto soccorso stesso. Il cosiddetto imbuto, conosciuto agli operatori, impedisce alle cartelle cliniche di viaggiare esclusivamente in rete, costringendo infermieri e medici a fare la spola con i reparti oppure di volta in volta telefonare per ogni caso. Tutto ciò blocca inutilmente il flusso delle prestazioni, facendo ricadere sulle spalle dei medici e dei paramedici del reparto di emergenza la responsabilità dell'inefficienza del sistema. Per questi motivi, concludono i segretari, chiederemo al prefetto di convocare un tavolo urgente con il questore e le organizzazioni sindacali, il direttore generale dell'ASP2, per trovare assieme una soluzione ragionata e mirata. I sindaci di Gela e di Caltanissetta si mobilitano al fianco dei sindacati. Cambiamo argomento, puntare sull'enogastronomia di eccellenza prodotta nel territorio per affrontare meglio i mercati locali. Questo è il tema dell'evento organizzato nell'ambito delle attività del progetto Autonomo Mente, che si svolgerà alle 11 di martedì 20 gennaio prossimo nei locali dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela. All'incontro parteciperanno gli studenti delle quarte e quinte classi dell'Istituto Relatore. Sarà Pasquale Tornatore, che da 10 anni guida la condotta Slow Food di Caltanissetta. Al convegno saranno presenti i giovani imprenditori locali che hanno orientato la produzione delle loro aziende su biologico e prodotti di eccellenza. Presi dall'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Sturzo, è possibile anche conseguire la patente europea di informatica, peraltro con delle competenze di altissima specializzazione? Sì, grazie ai fondi europei siamo riusciti l'anno scorso a realizzare questa aula informatica abbastanza attrezzata, con nuovi software e con delle potenzialità veramente notevoli, che consentono di poter conseguire la patente di informatica, il CDL. Abbiamo degli esperti che fanno dei corsi e possiamo dire che siamo uno dei centri più attrezzati nella Sicilia, a livello di Catania e Palermo, perché veramente rilasciamo tantissime patenti europee. È da dire, Preside, che ormai questa competenza è necessario che si acquisisca anche per presentare un semplice curriculum per una proposta di lavoro? Sicuramente, perché se è vero un po' quello che si dice in giro, perché questa patente consente di poter acquistire dei punteggi anche a livello di gradatore dei docenti, e quindi c'è veramente tutto un discorso che riguarda i punteggi, le gradatorie, e il nostro istituto si sta attrezzando anche per questo. Professore, in che attività sono impegnati in questo momento i ragazzi al computer? Allora, i ragazzi in questo momento stanno sviluppando un'applicazione che si basa su delle strutture di dati gestite in memoria centrale, sono appunto i cosiddetti vettori, loro li stanno utilizzando nella modalità che prevede appunto la presenza di più vettori, quindi vettori paralleli, che poi in realtà è alla base di tutta una serie di concetti che poi trovano utilizzo in una gestione di dati più complessa, che prevede appunto la gestione in maniera permanente di questi dati attraverso l'utilizzo di basi di dati, e che quindi hanno poi risvolto in tutte le funzioni che vengono quotidianamente fatte in tutte le organizzazioni, che possono essere sia organizzazioni pubbliche, come appunto le amministrazioni pubbliche, comuni, scuole eccetera, oppure anche organizzazioni private, e quindi aziende che hanno necessità appunto di gestire acquisti, vendite e altre organizzazioni di dati di questo tipo. Appuntamento questa sera alle 21 con Agorail Rotocalcò di approfondimento giornalistico condotto in studio da Franco Gallo, vi ricordiamo questa sera alle 21 sulla nostra emittente. Fiocco Azzurro in casa Burgio è nato nell'ospedale dedicata Valerio, figlio di Mario e Claudia Cibella, il bimbo che gode di ottima salute, pesa 4 kg, Valerio farà compagnia ai fratelli Antonio, Adriano e Federica, alla famiglia del nostro operatore di ripresa Antonio Burgio e alla famiglia Cibella le congratulazioni da parte di tutti noi. Eccoci, seconda parte del telegiornale, terno secco per uno scommettitore a Gela. Nell'estrazione di martedì scorso, giocando 5 euro, ne ha vinti 21.500. I numeri estratti sulla ruota di Cagliari sono il 38, il 65 e l'83. La vincita si è registrata nella ricevitoria Corfu di Corso Vittorio Emanuele. Fans in delirio ieri sera alla multisala Hollywood di Gela per la prima nazionale del film Italo. Attore protagonista è Marco Bocci per le ragazze che lo hanno atteso, è stato un piacere vederlo. Ma non solo ragazze, anche ragazzi e gente più adulta. Bocci nel film interpreta il ruolo di sindaco di Cicli, città nella quale il film, tratto da una storia vera, è stato girato. La Sicilia mi dà tanto calore, giorno dopo giorno, insomma, tanto affetto. Poi io ci ho fatto tanti lavori, serie di squadra antimafia, ci feci anche un altro film, La Bella Società, qualche anno fa. Sono tornato a girare questo film a Cicli. Insomma, spero di continuare a venirci sia per lavoro che per vacanza, perché è una terra fantastica e la gente è meravigliosa. Quando vedo questo affetto io soffro, soffro molto, perché sono molto contento, però mi piacerebbe veramente avere la possibilità e l'opportunità di prendere ogni singola persona, abbracciarla e ringraziarla. Purtroppo questo non è possibile farlo, perché molto spesso ce ne sono tante, tantissime di persone, quindi è impossibile. Per chi ha atteso l'arrivo dell'attore, averlo potuto fotografare e farsi fare un autografo, è stato emozionante. È un'emozione indescrivibile, davvero. Io ho sempre sognato di vederlo, l'ho sempre guardato in tv e adesso oggi, davvero, sono emozionatissima. Ma cosa ti piace di Marco Bocci? Tutto. Emozionata per l'affluenza di pubblico, ieri all'Hollywood la regista modicana, Alessia Scarso. Italo è un film che si ispira alla storia realmente accaduta di un trallaggio che ha abitato a Cicli. Si sa di lui, si conosce la sua storia intorno al 2009 e poi lui è venuto a marcare a gennaio del 2011. Ed era un cane molto straordinario, era veramente meraviglioso, aveva delle abitudini particolari, andava a messa, accompagnava i bambini a scuola. Una volta ha sventato un'aggressione a una ragazza, insomma viveva il sentimento di comunanza popolare, andava alle feste di paese, era un cane veramente straordinario. Il titolare dell'Hollywood, Orazio Brigadeci. Siamo molto contenti di aver ospitato questo attore di un certo spessore, proprio perché vogliamo andare sempre più avanti e sempre più in alto. E ora c'è qualcosa in alto che verrà? Possiamo anticipare qualcosa? Sì, anticipare no, però abbiamo in mente di fare altri eventi del genere. Non possiamo svelare almeno il nome? Ancora no. La banca nell'era di internet si tratta del concorso promosso dall'Istituto Luigi Sturzo di Gela in collaborazione con la banca Mediolanum rivolto alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Gela. Consiste nel raccontare in maniera creativa ed originale l'evoluzione della banca e di servizi che offre la banca virtuale sfruttando tutte le potenzialità espressive offerte dalla sinergia dei diversi media e dall'uso competente e consapevole delle risorse della rete. Per informazioni c'è un indirizzo mail mariangela.faraci.alice.it Bando di ricerca e selezione di due OSA operatore socioassistenziale di sesso femminile per l'assistenza igienico personale è stato indetto dal primo circolo didattico di Gela diretto da Adriana Quattrocchi. Le domande devono essere presentate entro le 12.30 del 22 gennaio prossimo e in questo caso non farà fede il timbro postale. Per informazioni rivolgersi al numero telefonico 0933 90 11 34 ripetiamo 0933 90 11 34 Bando di ricerca e selezione di tre operatori socioassistenziali due di sesso maschile e uno di sesso femminile lo ha indetto l'istituto comprensivo Gela e Butera diretto da Agata Guelli. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 13 del 19 gennaio prossimo non farà fede il timbro postale. Per informazioni bisognerà rivolgersi agli uffici dei servizi generali e amministrativi dalle 10.30 alle 12.30 da lunedì al venerdì. C'è anche un recapito telefonico 0933 83 52 76 Sono aperte le iscrizioni al primo corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana organizzato dal Comitato Locale di Gela presieduto da Anita Loppiano età minima 14 anni per informazioni 348 09 80 271 Sono ancora disponibili gli ultimi posti per accedere al corso abilitante sub ex rec autorizzato dalla regione siciliana è valido per il conseguimento della licenza alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande. Tutti gli interessati possono rivolgersi alla segreteria della Conf Commercio di Gela da lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 in via Cicerone per informazioni 0933 93 97 18 Penultimo appuntamento domenica prossima al convitto Pignatelli con la rassegna Natale Musiche e Canti Tradizionali promossa dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela alle 19.00 previsto il recital della pianista Sara Musumeci Sono due le donazioni di sangue promosse dall'Adas di Gela si daranno domenica 18 nel poloambulatorio ASP2 di via Matteotti e Butera e lunedì 19 nel centro di raccolta fisso di via degli Appennini 5 Anche Gela avrà il suo museo del cinema l'inaugurazione in programma domenica 18 gennaio alle 18 presso il palazzo Pignatelli il progetto ideato dal regista Gianni Virgadaula viene promosso dall'Istituto Culturale di Sicilia per la cinematografia Ollus con il patrocinio del comune di Gela e la collaborazione della Cineteca del comune di Bologna presenzeranno il sindaco Angelo Fasulo e l'assessore all'istruzione Giovanna Cassarà interverranno lo storico del cinema Nino Genovese e l'attrice Anna Passanisi previsto anche un collegamento telefonico con il regista Pupi Avati presidente onorario della nuova struttura museale dedicata alla settima arte il programma prevede alle 19.30 la proiezione del film Il Monello di Charlie Chaplin e continuano gli appuntamenti inseriti nel cartellone dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano Martire a Gela oggi alle 18 nel chiesa omonima celebrazione eucaristica riflessione omiletica la carità tutto scusa in ricordo di Don Franco Cavallo domani alle 17.15 recita del Santo Rosario alle 17.45 celebrazione del Vespro e coroncina di San Sebastiano e alle 18 celebrazione eucaristica riflessione omiletica la carità tutto crede con questa notizia noi chiudiamo l'informazione di oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti 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 grazie a tutti